Io personalmente non credo che la Juve ieri con il Benfica si sia comportata così male, addirittura qualche tifoso juventino mi ha detto SIC ma che cazzo dici che abbia fatto cagare? Beh io credo che nei primi 40 minuti la Juventus abbia tenuto botta, anzi abbia fatto una partita a differenza del solito propositiva in cui ha creato occasioni da gol, in cui è andata in vantaggio dopo 4 minuti per un dettame tattico che era un filone, quello di Allegri che è stato seguito secondo me alla perfezione perché era una Juventus che andava alla ricerca degli spazi che chiedeva a Milik di creare la profondità, che chiedeva sempre al polacco di creare gli spazi adatti era una Juventus reinventata in un 3-5-2 che pareva funzionare quindi con Kostic e Quadrato in ruoli che gli competono Miretti in mezzo al campo, McKennie nel ruolo in cui gli competeva, difesa con Bremer, con Danilo tra l'altro Bremer perfetto per la difesa 3, Danilo perfetto per la difesa 3, Bonucci perfetto per la difesa 3 ecco il 3-5-2 disegnato ieri per me era esattamente il modulo che la Juventus doveva schierare il sistema di gioco che veniva chiesto ai bianconeri e stava funzionando ecco l'unica cosa che mi sorprendeva è forse una delle poche cose che realmente merita l'ode ovvero Milik vicino a Vlaovic perché subito ho pensato ok ma forse sarebbe stato meglio vedere Di Maria che probabilmente non aveva ancora, poi è entrato ma non aveva ancora i 90 minuti nelle gambe di fianco a Vlaovic e va bene così però nella gara di ieri è successo qualcosa il calcio di rigore che ci sta ti chiude, ti spegne il cervello e Allegri non è capace nemmeno nel secondo tempo, nemmeno tra un tempo e un altro a fine primo tempo quando va a contatto con i propri ragazzi non è comunque capace di riprendere in mano la squadra e questa è una grave mancanza qualcuno dice Allegri dimettiti, Allegri non si dimetterà mai ma perché è giusto che sia così perché quando Agnelli si è presentato da Allegri quando la dirigenza si è presentata da Allegri chiedendogli di tornare e lui ovviamente inizialmente almeno era contrariato perché non si torna dove si è fatta la storia perché per quanto si possa dire la Juventus ha fatto la storia con Allegri ha fatto due finali di Champions, ha costruito qualcosa di importante ha vinto tutti gli scudetti che poteva vincere da quando Allegri era sulla panchina quando si è presentato l'ha ricoperto di oro, l'ha ricoperto d'oro, di denaro, di soldi e quindi in quel momento lì è chiaro che quando Allegri fa quel passo lì dice io adesso mi gioco le mie carte e giustamente Allegri dice questi momenti ci stanno sono momenti che possono capitare però adesso la situazione è grave adesso la situazione è veramente grave cioè dopo la sconfitta di ieri con il Benfica che è arrivata perché è arrivata perché poi avevo detto nel primo tempo a me la Juventus non mi stava dispiacendo addirittura Kostic su suggerimento di quadrato se non sbaglio non ricordo rischia di fare il 2-0 e lì la gara avrebbe preso tutta un'altra forma tutto un altro ritmo tutto un altro tipo di presentazione per quelli che poi sarebbero stati i risultati e classifica annessa del girone però la Juventus che perde in casa con il Benfica dopo aver perso nel Paris Saint Germain perché poi perdere a Parigi ci sta io avevo criticato della Juventus l'atteggiamento enormemente allora diventa una cosa grave ma veramente grave io credo che in questo momento poi pare che Allegri verrà confermato non lo so ma in questo momento credo che è davvero il dubbio amoletico sia a tenere o cacciare Allegri ed è un dubbio amoletico che per quanto mi riguarda è lecito perché tu arrivi ad un punto in cui magari puoi pensare e dire se devo fare un cambio quest'anno in panchina se decido di fare una di dare una svolta la faccio prima della pausa del mondiale perché prima della pausa del mondiale avrò poi la possibilità di dare al nuovo allenatore una preparazione atletica lunga perché poi quelli che non partono per le nazionali anche se poi nel caso della Juventus sono molti possono fare una preparazione a stante lunga un mese e qualcosa in più inoltre ci sarà il calciomercato di gennaio quindi sceglierà altri calciatori altri 2-3 tasselli che potrebbero essergli utili e quindi magari quel cambio lo puoi fare lì ma sarebbe un cambio inutile perché prima del mondiale poco prima del mondiale la Juve ha già chiuso ha già scaricato il girone di Champions e se tu hai già scaricato il girone di Champions o sei passato e quindi sei un idiota se cacci Allegri perché alla fine sei passato o sei stato eliminato e quindi sei un idiota che se cacci Allegri è con me sei stato eliminato cosa deve fare una squadra a campionato in corso in mare ad un allenatore per fargli fare magari l'Europa League o niente con il rischio che addirittura se gli fa fare l'Europa League ha l'obbligo di vincerla e non è così scontato perché anche in Europa League ci sono compagini niente male e allora e allora a questo punto il dubbio viene oggi prima che sia troppo tardi Allegri è da tenere o da esonerare io vi dico chiaramente qualcuno ieri ma anche scritto tu non eri quello che difendeva spada tratta Allegri ma io chiaramente vi dico che per me se un gioco funziona è inutile lamentarsi è inutile piangere nelle prime giornate di questo campionato Allegri per me aveva tutte le scusanti del mondo perché c'erano tante assenze perché la Juventus ha avuto delle problematiche fisiche chiare a tutti ragazzi è mancato sempre Di Maria è sempre stato rotto Pogba non c'è non c'è mai stato è arrivato per dare ricchezza a un centrocampo ma di fatto la Juventus è l'unico rinforzo che ha davanti a Milik basta e Bremer dietro ma manco troppo perché uno Bremer sta rendendo poco e due è arrivato per sostituire De Ligt è arrivato Kostic ecco Kostic sì questo devo ammetterlo ma Kostic doveva essere probabilmente il vice di Di Maria e invece sta gioando sempre lui perché Di Maria o comunque un tassello sicuramente valido e duttile però sempre presentato come il vice di Di Maria e allora e allora e allora invece in questo momento Kostic sta facendo il super titolare perché altra possibilità non c'è e allora a questo punto faccio una riflessione e vi dico diamo però a Cesare quel che è di Cesare quindi se Bremer sta rendendo male è colpa di Allegri che lo sta facendo diventare il nuovo Rugani ok e qualcuno se ne è lamentato ovviamente a me Bremer non dispiace me lo prenderei oggi stesso alla Roma ci mancherebbe però sicuramente qualche tifoso bianconero si aspettava di più in fase di marcatura eccetera ho letto ieri molti commenti che lo paragonavano a Rugani però se Milik sta rendendo così bene sarà merito di Allegri oppure quando un giocatore rende bene è merito del giocatore e quando un giocatore rende male è demerito di Allegri ecco non credo nella seconda possibilità credo in generale che sia sempre merito o demerito completo dell'allenatore se gli si vuole dire se gli si vuole addossare la colpa del declino di Bremer per quanto si possa poi parlare di declino o comunque del declino della Juventus gli si poi debbano riconoscere delle situazioni relative invece a ciò che sta overperformando quindi Milik al contrario invece se si vuole dire che Allegri non ha idea di cosa sta facendo non parliamo né di Milik né di Bremer detto ciò però l'analisi ragazzi va fatta perché io vi ho sempre detto se tu giochi male e vinci vieni qua che io ti abbraccio cioè a me non frega nulla se Mourinho gioca male il problema qual è? che se giochi male e vinci bravo sei forte se giochi bene e vinci bravo sei forte se giochi bene e perdi guardate la Lazio contro il Napoli perché la Lazio contro il Napoli gioca bene ma poi perde diciamo che non sono contento del fatto che tu abbia perso non posso dirti bravo però ti faccio un applauso comunque perché hai proposto un bel gioco e alla fine ti sei arreso perché Sarri ovviamente essendo un alleatore che fa giocare bene tutte tranne la Juventus fa giocare bene anche la Lazio però se tu giochi male e perdi sei sempre soggetto a critiche sempre sempre sei soggetto a critiche sempre ma è chiaro che sia così è chiaro guardate Mourinho Mourinho ragazzi in questo momento in campionato è a un punto dalla prima ok è vero che ha perso la prima gara con il Ludo Goretz però è a un punto dalla prima eppure in campionato ha perso una gara con l'Udinese e l'hanno fatto a merda è vero ha perso 4-0 però questo è successo ha perso un Ludo Goretz stessa storia identica spiccicata l'hanno fatto a merda e quindi è normale che se giochi male e perdi passi dalla parte del torto perché è chiaro che sia così però a questo punto io credo che Allegri che ieri poi aveva secondo me una squadra forte perché la squadra data da Allegri era una squadra forte e questo io penso ecco allora io credo che a questo punto serva un un cambio immediato di rotta cioè io non andrei per l'esonero rischia l'esonero sì in questo momento per me rischia l'esonero perché la Juventus è decima in classifica perché è già più di una partita dalla prima posizione in classifica che poi è l'obiettivo perché tu hai fatto una squadra all star per quanto poi si possa dire è però sono tutti rotti sì però li hai scelti te così cioè hai scelto Di Maria che è fragile hai scelto Pogba che sapevamo che con di attenuta fisica non era integro al 100% Milik è un altro ora sta arrendendo però hai preso un altro che ora per il momento non gli gufo nulla ma è più rotto che Sanon è stato più rotto che Sanon negli ultimi 10 anni e quindi è normale che davanti a determinate cose uno si fa uno più e dice forse l'errore in quel caso potresti potresti averlo fatto te e penso che questi giocatori li abbia chiesti Allegri allora ad oggi vi dico con la Juve che ha 0 punti ragazzi è chiaro che ora la Juve ha due cari con il Maccabi le vincesse entrambe non sarà semplice perché andare ad Aifa l'avete visto nel Paris Saint Germain non sarà per niente semplice per niente per niente però la Juventus deve andare a giocare due cari con il Maccabi se vince entrambe le partite va a 6 sperando devono sperare che il Paris Saint Germain faccia il suo dovere e batta entrambe le volte il Benfica allora in quel caso arriverebbe 12 Paris Saint Germain 6 Benfica 6 Juve e 0 Maccabi in quel caso si andrebbe a costruire una situazione sicuramente diversa nella quale la Juventus si appare i punti con il Benfica c'ha una gara da giocare in casa contro il PSG c'ha una gara da giocare in casa contro il Benfica basterebbe che battere il Benfica e cercare di far punti contro il PSG posto poi che comunque la Juve deve andare a giocare contro il non deve più affrontare il Maccabi mentre il Benfica si e lì potresti anche riaver preso in mano la situazione però non è scontato però non è scontato in questo momento la Juventus all'acqua alla gola e in campionata e in Champions League quindi io non esonererei Allegri però darei nascosti direi non sei intoccabile non sei intoccabile adesso gli devi dare una svegliata perché non è un Murigno che perde un paio di partite è un Allegri che da inizio campionato sono più le partite che non ha vinto rispetto alle partite che ha vinto e sono molte di più e allora ti dà una svegliata di per il momento non te caccio però sei qua sei davanti alla porta sei sulla graticola sei a rischio e allora cerca di darti una svegliata perché questo serve perché oggi se dovesse arrivare l'esonero di Allegri non sarebbe clamoroso poi io lo chiamerei clamoroso ma non sarebbe clamoroso fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto questo video e vi da lasciato tantissimo mi piace buonasera all'alline come sempre ci vediamo al prossimo video